Ben tornati alla seconda parte di Antropos che abbiamo dedicato agli eventi illuvionali di questo periodo. Architetto, stavamo parlando della prevenzione che si fa, di come la macchina parta, poi ne parleremo ancora dopo l'ingegnere Barbero, di come si attivi rispetto agli eventi che devono, previsti, insomma gli eventi dannosi che possono essere previsti. A proposito di questo, voi della regione avete realizzato un bellissimo video, c'è anche Luca Mercalli in questo video, che parla proprio delle buone pratiche rispetto a questi fatti climatici e che cosa fare in questi eventi. Allora vediamo il filmato e poi torniamo in studio. In caso di piogge intense, un sottopassaggio allagato si può trasformare in una trappola mortale, con una profondità dell'acqua oltre i 30 centimetri, un'automobile galleggia. Ne perdete totalmente il controllo e se il livello dell'acqua aumenta non avete scampo. Non entrate mai in un sottopassaggio allagato. In caso di allerta alluvione, evitate di sostare sui ponti. Sono i luoghi più esposti o al crollo o a un eventuale sormonto da parte dell'onda di piena. Fate molta attenzione a muovervi in zone allagate. L'acqua torbida può nascondere detriti pericolosi, oppure potreste essere inghiottiti da una voragine o cadere in un tombino aperto. Se abitate in aree inondabili, con opportuno anticipo, svuotate scantinati e alloggi al pian terreno dagli oggetti di valore, dai mobili a cui tenete, dai documenti in coppia unica, in modo da poter evitare la parte peggiore dei danni. E siate sempre pronti a trovare un'alternativa di sistemazione in luogo sicuro in caso di ordine di evacuazione. In caso di fenomeni alluvionali in montagna, l'unica sicurezza è rimanere estremamente vigili e abbandonare le zone riconosciute a rischio quando vengono dati gli opportuni allarmi. Non affrontate mai un guado su un torrente in piena, potreste essere travolti con la vostra automobile. Dedicate un po' di tempo alla preparazione di un kit sopravvivenza in caso di alluvione o terremoto. Può rendervi molto meno pesanti le prime ore dell'emergenza e in qualche caso può salvarvi la vita. Grazie a Luca Mercalli che ha realizzato questo video, grazie alla regione che lo propone alla popolazione. Questo perché si affronta lo spinosissimo problema proprio di aumentare l'informazione. Qualche volta quando accadono questi fatti si vede effettivamente qualche gesto un po' in consulto che le persone fanno a volte per salvare una macchina o anche solo per salvare una persona che è molto più importante, ma qualche volta invece per motivi che sono un pochino più futili. Ecco, riguardo alla formazione, la regione che cosa fa davvero? Per esempio intervenite nelle scuole? Sì, la regione ha dei programmi di formazione annuali, ha anche una scuola virtuale di protezione civile, quindi non in senso fisico, ma attraverso l'organizzazione dei punti di corsi che individuano un target specifico e sulla base di questo provvedono a derogare questi corsi sul territorio. Sono stati fatti corsi e stanno tuttora in corso dei corsi di formazione per i sindaci, per gli operatori del sistema di protezione civile e informazione nell'ambito delle scuole. In realtà sull'informazione si cambia la cultura rispetto assolutamente sì, quindi la cosa più importante è proprio questa, quella di poter entrare nelle case, nelle famiglie e quale veicolo migliore che non le scuole è la formazione che viene fatta nelle scuole anche dai nostri volontari che sono sul territorio e spesso hanno delle collaborazioni con gli istituti che sono residenti e professi comuni. Grazie. Professore, senta, riguardo invece agli argomenti scientifici ci sono due grandi torti che l'informazione, in questo caso il giornalismo, può fare rispetto proprio alla ricerca. Uno è parlare troppo e in senso allarmistico di un fatto, perdendo un po' la realtà rispetto a quello che davvero è o che accade. L'altro è all'improvviso non parlarne più. Allora, in che senso danneggia una cosa e in che senso danneggia l'altra? La prima cosa che ha detto danneggia come la famosa favola del lupo, se uno grida troppo al lupo al lupo la gente poi si abitua e non reagisce più. Non essere informati. Non essere allertati. In questo senso c'è da dire che tutto l'allarmismo che è venuto fuori negli ultimi due o tre anni nel campo della meteorologia, con tantissimi siti privati che ormai lanciano allarmi anche a 10-15 giorni di distanza, allarmi che sono del tutto ingiustificati, perché le previsioni meteo oltre 3-4 giorni sono poco attendibili e quindi non si prestano a lanciare allarmi. Al limite si possono lanciare degli avvisi di tenersi informati, ma non allarmi a 10 giorni di distanza. Quindi questo crea in effetti troppo allarmismo. D'altra parte, come diceva lei, è dimostrato che una volta successo un evento dannoso, tutti i media ne parlano, ma questo dura tre giorni. Basta fare una ricerca semplicissima con Google, c'è una funzione che si chiama Google Trends. Provate a cercare la parola alluvione e si vede che la durata di popolarità della parola alluvione è in corrispondenza di tutti gli eventi, ma dura 2-3 giorni. Poi dopo, dai giornali comincia ad andare in seconda, terza, ultima pagina e poi sparisce. In televisione non se ne parla più. Qualche volta, se non c'è il morto, non se ne parla neanche. Per esempio, l'evento di gennaio scorso in Emilia Romagna non è quasi arrivato ai giornali, se non dopo 3-4 giorni. Quindi sono del... Senta, siccome l'informazione ha una grandissima responsabilità rispetto a quello che comunica proprio agli spettatori, soprattutto in campo scientifico, quando si prescinde dai dati, si prescinde da quello che accade realmente, si preferisce invece un titolo sensazionale, una notizia. In questo senso, come potrebbe aiutarvi l'informazione? Cioè, essere più costanti per comunicare che cosa? Per esempio, i cambiamenti climatici è una cosa a cui dobbiamo essere educati gradualmente, dovremmo imparare a seguire tutti gli aspetti del... Come potremmo aiutarvi da questo punto di vista per fare del sano giornalismo? Secondo me, parlandone periodicamente, anche al di fuori degli eventi estremi. Adesso tutti parlano di alluvione. È già passato una sett... Sono già passati alcuni giorni, tra poco non se ne parla più. Allora, tra una settimana, se per fortuna non succede nulla, o tra un mese, si ne dovrebbe parlare con trasmissioni... Non perdere l'abitudine. ...dedicate, possibilmente senza cercare a tutti i costi il confronto, perché spesso in scienza il confronto non esiste, nel senso che non è necessario che ci siano due posizioni contrapposte che le persone si becchino, anche perché molto spesso lo scienziato non è che sia così abile a controbattere e a replicare in pubblico, perché non è quello il suo mestiere. Una, diciamo, trasmissione educative, soprattutto i canali pubblici nazionali dovrebbero fare questo, perché... Anche perché dovremmo imparare come cittadini, come spettatori, a essere informati, dicevamo prima, a una situazione climatica e di vita globale del globo e non soltanto del perimetro in cui viviamo, perché tendiamo a tener conto di quello che è avvenuto tre giorni prima sotto casa nostra, ma non teniamo conto che il pianeta ha una sua vita, un suo ecosistema, un suo equilibrio. A questo effettivamente non siamo molto abituati. forse l'informazione potrebbe smettere, come diceva lei, di fare i confronti e ragionare invece in termini proprio di informazione. Senti, ingegnere, rimanendo sempre nel settore prevenzione, che è quello che è importantissimo, voi lavorate insomma in squadra, anche voi ovviamente siete coinvolti dal sistema di prevenzione di tutti gli eventi climatici. Quali sono le informazioni di cui voi dovete essere a conoscenza per poter fare della prevenzione, cioè l'ARPA? Allora, innanzitutto per poter poi fare quello che è il primo tassello della catena di intervento sul territorio, è quello che si diceva un buon allertamento. Un buon allertamento che deve basarsi su dati scientificamente importanti e come si diceva non è possibile fare una previsione attendibile una settimana o dieci giorni prima. Questo è il motivo per cui... Ecco, scusi, di quale prevedibilità stiamo parlando? Qual è l'arco temporale di previsioni che si può fare? Allora, stiamo parlando di prevedibilità di eventi meteorologici intensi in termini di individuare la quantità di pioggia che ci si aspetta in termini numerici, quindi non con degli aggettivi ma con dei numeri e anche quali sono i territori che verranno interessati. Ma con quanto anticipo? Con due giorni, 36-48 ore di anticipo. Questo è una finestra temporale che se appunto la previsione è sufficientemente attendibile consente già una pre... intanto un preallertamento da parte del sistema e poi in alcuni casi come è venuto in questi eventi passati anche l'attivazione preventiva dei centri di coordinamento e soccorso in prefettura proprio in ragione anche di situazioni particolarmente critiche già verificate. Cito perché appunto conosciamo la situazione della prefettura di Alessandria che in questi eventi non ha atteso l'inizio delle precipitazioni per coinvolgere e convocare i vari attori tra cui i sindaci, le forze dell'ordine e gli enti che in qualche maniera devono contribuire a gestire l'emergenza ma preventivamente ha fatto già riunioni per coordinare e per capire anche quali erano le problematiche sul territorio per poter spostare mezzi uomini preventivamente. Quindi questa è la prima funzione di un messaggio di allertamento preventivo verso gli organi istituzionali e questo credo che sia oramai una prassi consolidata. Una sfida sulla quale si sta lavorando è quella di poter arrivare direttamente anche al cittadino e qui ci colleghiamo a queste buone pratiche nel senso che se diciamo la macchina istituzionale si muove per in qualche maniera porre in essere le azioni di tutela delle persone ma bisogna anche che il singolo cittadino sia consapevole Parlavamo prima l'importanza è che si diffonda una cultura sia consapevole di quelle che è proprio i messaggi di allertamento e allora in questo senso uno sforzo che si è fatto anche a livello nazionale è quella di tradurre questi messaggi in una forma molto semplice allora si è passati dai codici numerici che si equivocavano perché un tecnico in Ligure abbiamo allerta 1, allerta 2 in Piemonte abbiamo dei codici numerici diversi per i cittadini non è così chiaro non è chiaro ma soprattutto se un cittadino della Ligure viene in Piemonte non si può pretendere che conosca e allora si è trasformato questo messaggio in un messaggio semaforico che diciamo abbiamo l'allerta gialla l'allerta arancione l'allerta rossa è chiaro a tutti quello che può essere la gravità delle allerte cercando anche di uniformare quello che noi chiamiamo tecnicamente lo scenario atteso relativo a quel tipo di allerta per tutti e questo dovrebbe essere la sfida attuale quella di poter trasferire questa informazione anche al cittadino cioè fare in maniera che anche il cittadino si abitui ordinariamente a consultare perché dicevamo prima se tutta la macchina si mette in moto però poi il singolo cittadino fa l'azione sbagliata il rischio è questo certo mi scusi la possibilità di margine di errore in che percentuale siamo umanamente ma allora i falsi allarmi ci saranno sempre perché diversamente si rischia beh il falso allarme è un'altra cosa ma il margine di errore il margine di errore è legato alla necessità di calibrare bene quelli che sono mancati allarmi dei falsi allarmi allora noi abbiamo sempre operato in maniera da minimizzare quelli che sono i mancati allarme perché è la cosa più drammatica quella di non riuscire a prevedere un fenomeno i falsi allarmi però da noi sono abbastanza ridotti nel senso che normalmente la protezione civile lo può confermare normalmente quando diamo un codice d'allerta importante quindi un codice arancione o ancora di più un codice rosso è perché la situazione è veramente grave potremmo non individuare con precisione le aree colpite potrebbero esserci situazioni che poi determinano delle criticità magari in aree attigue ma normalmente il fenomeno viene visto bene con un certo anticipo c'è un problema però di fondo che si è evidenziato in questi eventi che sono i fenomeni intensi locali quelli che chiamiamo temporali intensi possiamo chiamarli acquazzoni ma che sono quelli veramente più difficili da poter prevedere prevedere perché il problema anche sono come scheggi impazzite perché non si riesce a prevedere quello che dicevo prima in termini di localizzazione e in termini di intensità e questi due fattori sono i fattori determinanti per dire se una una pioggia può essere problematico oppure no certo torniamo alla protezione civile abbiamo detto che esiste la macchina è molto complessa però esiste un cuore che pulsa che questa sala operativa che nell'immaginario di tutti è una stanza dei bottoni dove accade tutto è nata nel 2004 giusto? sì nella versione in cui è adesso anche con le tecnologie attuali la sala operativa ma la sala operativa funziona appunto con delle quanti persone ci sono dentro? ruotano un po' tutte le persone del settore noi non abbiamo del personale dedicato esclusivamente alla sala operativa regionale per scelta legata alla disponibilità di persone ma anche per una scelta etica che è quella di formare comunque tutto il personale della regione anche alla gestione dell'emergenza ricordiamoci che i nostri colleghi appunto non fanno solo emergenza ma fanno prevenzione quindi c'è chi si occupa di scuola, di volontariato c'è un lavoro quotidiano di pianificazione quindi non avrebbe questa attinenza o questa sensibilità con la sala operativa però la nostra scelta è stata quella proprio di far ruotare tutti quando c'è bisogno in emergenza in sala e quindi la sala funziona con tutto il personale che nel momento in cui c'è un codice come diceva l'ingegnere Barbero di un certo livello soprattutto col codice 2 o anche quindi col codice arancio e anche con un codice giallo particolarmente significativo la nostra sala si organizza in turnazioni H24 e segue dalla sala le volute diciamo prima un corpo importantissimo è quello di volontari di che corpo stiamo parlando mi sfuggono la misura di questo corpo e anche il loro intervento come lavorano gli volontari sì ecco purtroppo quando si parla di protezione civile si parla o per fortuna di sistema e sistema significa anche il volontariato il volontariato fa parte del sistema ma poi non c'è un volontariato ma anche lì un sistema un sistema che lo organizza quindi i volontari sono organizzati dalla regione quindi almeno quelli di protezione civile sono organizzati dalla regione con una macro organizzazione poi chiaramente hanno delle articolazioni comunali provinciali eccetera si sono anche organizzati in un unico coordinamento regionale che è il nostro interlocutore questo per diventare un unico corpo per avere comunque un unico riferimento poi non saranno mai un corpo omogeneo perché il volontariato per sua natura è eterogeneo però per far sì che la regione possa avere un interlocutore unico quindi noi abbiamo interlocutore il coordinamento regionale che parla con gli otto coordinamenti provinciali a cascata a catena si arriva fino al territorio sono circa 15.000 i volontari presenti sul territorio della regione tra le diverse anime è diffusa una cultura se funziona è diffusa una cultura il 94 ha fatto scuola ogni evento ogni evento purtroppo meteorologico critico che si porta come dire dietro le tragedie si porta poi però anche dietro degli spazi di miglioramento e questi spazi di miglioramento che abbiamo sfruttato non c'è un'età minima un'età massima per il volontariato il minorenne il sedicenne il sedicenne voglio dire non viene di primo acchitto diciamo preso in considerazione perché comunque ci sono delle responsabilità bisogna fare delle assicurative e via dicendo non so una persona grande può partire sì sì le persone grandi sono importanti sono importanti per l'esperienza che hanno per l'umanità che hanno maturato non perché i giovani non ce l'abbiano però sono tutti assolutamente graditi ma deve fare una persona per diventare volontario della protezione civile? deve rivolgersi al proprio comune vedere se c'è già un'associazione quindi iscriversi oppure se c'è un gruppo comunale che è gestito direttamente dal comune ma l'associazione poi li forma i volontari? l'associazione poi li forma l'associazione li dota di tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuale l'associazione li segue li impiega e li valorizza grazie architetto professore senta torniamo alla alla consapevolezza del cittadino o delle popolazioni in genere siccome con lei è giusto parlare del clima e del pianeta che poi riguarda anche noi ma come dicevamo prima non si può partire da un contesto generale allora le chiedo se noi dovessimo trasmettere un decalogo anche solo dieci regole da indicare a ciascun spettatore per assumersi una piccola parte di responsabilità sul stato di salute del pianeta e quindi le dieci regole le dieci buone pratiche che come esseri umani potremmo mettere in piedi per cercare di far sì che questo ecosistema stia in piedi il più possibile che cosa potremmo dire qual è l'azione che potrebbe fare l'individuo rispetto al pianeta ci sono tante cose che può fare il singolo individuo la prima cosa è di essere consapevole delle problematiche del territorio e delle anche problematiche dell'ambiente intese qui stiamo parlando di clima e meteorologia quindi ogni territorio ha delle vulnerabilità specifiche per certi aspetti di clima in qualche posto possono essere le siccità in altri posti le alluvioni in altri posti le valanghe per dire ogni persona che vive in una determinata località sa bene cosa è successo negli anni precedenti un po' di statistica e quindi dovrebbe innanzitutto premonirsi informarsi nel caso siano previsti eventi simili almeno ha un background a cui attingere ecco però quando si parla della salute del pianeta poi mano a mano sviscerando i problemi si arriva alle buone pratiche di tutti i giorni che fanno sì che quel livello di salute per esempio tantissime volte abbiamo parlato della gestione dei rifiuti abbiamo parlato delle energie rinnovabili abbiamo parlato di tutte le piccole azioni che individualmente si possono mettere in piedi per poi far in modo fare sì che la salute del pianeta sia garantita quindi nel nostro piccolo vorrebbe poter dire rendersi conto appunto di quella che è la gestione corretta dei rifiuti l'utilizzo delle energie alternative quello senz'altro noi abbiamo un problema di emissioni di gas sera stiamo emettendone troppi perché stiamo sperperando energia ciascuno di noi a casa sua sperpera energia bisognerebbe cercare di risparmiarne il più possibile di favorire le energie alternative certo un individuo da solo non è che possa fare molto può votare questo è un potere enorme è un grandissimo strumento volevo c'è da dire che se io vado a vedere i programmi politici di praticamente tutti i partiti delle ultime elezioni e vado a cercare la parola clima cambiamenti climatici praticamente non la trovo nei programmi di tutti facciamo questa continua alternanza questi balzelli tra l'individuo e invece le organizzazioni mondiali i grandi i grandi eventi in cui le nazioni di tutto il mondo si riuniscono proprio per parlare di clima nella maggior parte dei casi se non sbaglio sono state un po' non dico dei fallimenti ma insomma dei protocolli che non hanno portato a grandi risultati ma questo vuol dire che a livello proprio delle organizzazioni governative non c'è ancora una consapevolezza piena di quello che sta accadendo secondo me la consapevolezza c'è il problema è che le azioni per fare in modo di diciamo di mitigare o di adattare le strategie sono impopolari e costano e nessuno vuole pagarle perché io sono convinto che tutti i leader del mondo ormai sono coscienti del problema del clima che sta cambiando e delle conseguenze che può avere a te che ormai sono in programma sempre incontri continui esattamente il problema è che le contromisure hanno dei costi e diciamo chi ha il potere è restio ad affrontare dei corsi oggi perché ha paura che ciò li comprometta le successive elezioni qual è il paese nel mondo stiamo parlando poi soprattutto dell'Occidente insomma che affronta queste politiche ma voglio dire qual è il governo che affronta con più consapevolezza queste problematiche se si può fare insomma una sorta di classifica è una bella domanda ci sono delle nazioni che hanno fatto molto stiamo parlando del nord Europa America sì per esempio il nord Europa comunque è difficile dare una risposta perché poi ognuno intanto i governi cambiano velocemente per esempio l'Australia fino al governo precedente era una nazione che aveva fatto molto e poi col cambiamento del premier è cambiato tutto certo infatti la politica è forse l'unica cosa che cambia più velocemente non tanto la politica che a volte è lenta ma insomma le alternanze al governo dei vari paesi sono velocissime più del clima per cui io ho credo solo tre minuti quasi quindi abbiamo ancora anche lanciato un servizio quindi devo fare delle domande velocissime ingegnere ci sono ancora delle zone evacuate da noi in Piemonte o degli stati di allerta abbiamo ancora qualche problema nell'ossola lago maggiore lago del verbano perché lago d'orta perché le acque stanno rientrando poco per volta so che l'ospedale di Omenia è stato evacuato e aspettavano il ritiro delle acque per poter rientrare architetto volevo chiederle dicevamo che la macchina della protezione civile è molto complessa ma questo può valere anche per l'ARPA ovviamente ma in un momento di tagli dei finanziamenti che è un discorso veramente disastroso ecco in questo momento siete stati toccati anche voi oppure in qualche modo i finanziamenti sono garantiti sì negli ultimi anni praticamente quelle che hanno coinciso un po' con la crisi economica anche noi altri abbiamo visto il nostro bilancio in qualche modo tagliato però devo dire che c'è stata grande sensibilità della regione del nostro ente nel garantirci quel minimo necessario vitale soprattutto per la gestione delle nostre attività magari ci siamo limitati un tantino in quelle che potevano essere attività di ricerca ma per tutto quello che è la gestione soprattutto della nostra colonna mobile non ci sono mancate non ci stanno mancando i finanziamenti benissimo allora io voglio ringraziare tutti voi siamo quasi siamo praticamente alla chiusura della nostra trasmissione voglio ringraziare il professor Cassardo dell'Università di Torino l'ingegner secondo Barbero dell'Arte di Piemonte e l'architetto Franco De Giglio della protezione civile abbiamo ancora un filmato da mandare prima della chiusura ma lo manderei direttamente in chiusura a questo punto sto cercando di sapere dalla regia quanti minuti ho ancora per poter andare avanti abbiamo finito allora a questo punto approfitto invece ci tengo moltissimo a fare un annuncio per quanto riguarda un evento che si terrà domani il 22 novembre alle 11.30 presso i saloni della prefettura di Torino perché si terrà a scopo di beneficenza una mostra che è la passione bambole che sono le più belle bambole antiche messe provenienti da tutte le collezioni private e dal museo sala rognoni messo a disposizione dal comune di Novara si tratta di una mostra che andrà a favore della Croce Rossa italiana e del dispensario Pino e Franco Healthcare Center in parte collocato diciamo mi fanno cercare di chiudere sempre più velocemente quindi devo andare quindi ricordo a tutti l'appuntamento domani mattina alle 22 novembre alle 11.30 presso i saloni della prefettura a questo punto forse non mandiamo più in onda il filmato che avevamo previsto quindi ringrazio di nuovo ancora e saluto ai miei ospiti e a tutti voi che ci avete seguito do il mio arrivederci grazie buonasera grazie 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 grazie